Il motivo per cui noi oggi ci ritroviamo qui in questo foyer Rossini era la possibilità di riportare i soci, le società, i dirigenti di oggi nel luogo dove 70 anni fa si è dibattuto per alcuni giorni per poi dare il via alla nostra associazione. Lo sport è una delle componenti fondamentali di convivenza sociale. Noi ci siamo davvero sul territorio. Ci stiamo impegnando soprattutto per una prospettiva di futuro. Noi ci siamo davvero sul territorio.